Dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, oltre 105 milioni di euro per le bonifiche dei siti abbandonati, 5.333 per quelli della Calabria. Ora toccherà la Regione, soggetto attuatore, indicare i siti da bonificare e agire in fretta. Lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Laura Ferrara, Alessandro Melicchio, Riccardo Tucci, Anna Laura Orrico, Giuseppe Fabio Adduino ed Elisa Scutellà. Luoghi che inquinano e stanno lì a volte da decine di anni e circa il 50% si trova al sud, dicono ancora gli esponenti pentastellati. Oggi, finalmente, dopo tanti anni la Repubblica Italiana riconosce che ci sono dei luoghi abbandonati sui quali intervenire per bonificarli. Oltre i siti di interesse nazionale e i siti di interesse regionale. Oggi c'è la terza categoria, i siti orfani. Ognuno di voi, ma tanti comitati, tanti cittadini, mi hanno scritto in questo tempo in cui io sono ministro, dicendo ma io vedo che c'è un sito, nessuno fa niente, ma com'è possibile? Ma lo Stato dov'è? Il Comune dov'è? La Regione dov'è? Era probabilmente un sito orfano. Bene, allora noi l'abbiamo firmato. Io l'ho firmato dopo aver negoziato con le regioni, quindi tutte le regioni d'Italia, e attribuendo alle regioni la competenza di individuare, per il principio di prossimità territoriale, cioè sono più vicino a casa di ciascuno dei cittadini italiani, di individuare esattamente questi siti dove sono. Noi li abbiamo configurati, ma non è sufficiente, noi abbiamo voluto anche andare oltre. Gli abbiamo dato le risorse economiche, perché gli individui, sai che esistono e poi non puoi fare niente perché ti mancano i soldi. No, io ho firmato un decreto di poco più di 105 milioni di euro per poterli bonificare. Abbiamo ripartito già queste risorse, quindi nemmeno stanno lì, ma le abbiamo ripartite assegnandole a ogni regione d'Italia, ogni regione vuol dire che sono dovunque, non solo in una regione e non in un'altra, e le due province autonome. Oggi, finalmente, i presidenti di regione e i presidenti delle due province autonome possono intervenire. Hanno il profilo giuridico, l'ho firmato, gli ho dato i soldi, ma devono bonificarlo. Ecco perché ve lo comunico con tale soddisfazione, perché è una grande conquista della Repubblica Italiana. E' il modo per affrontare le bonifiche fino in fondo. Voi sapete quanto io ci tengo alle bonifiche. Sapete che ho ristrutturato il Ministero dell'Ambiente al punto tale di aver fatto una direzione generale proprio e solo per le bonifiche, perché è il grande buco nero d'Italia ambientale. Bene, abbiamo attivato dopo, non so, credo, quasi 30 anni le bonifiche di Caffaro. Stiamo definendo quelle di Priolo e altre ne stiamo attivando. Quindi stiamo facendo un lavoro tremendo, grosso, gigantesco. Stiamo stressando molto il sistema anche delle bonifiche dei siti di interesse regionale, pur non avendone competenza. Noi stiamo chiedendo alle regioni di accelerare, ci abbiamo messo le risorse. Io questi terreni da bonificare li ho vissuti in prima persona. Io ci sono andato dentro in quelle discariche, le ho viste, sono sceso in talunni casi a meno 20 metri, a meno 12 metri insieme ai miei uomini, prima di diventare ministro, respirando quella malefica aria. Perché? Perché bisogna starci dentro per capire le certe cose. Io le ho vissute tutte quelle cose. Adesso era il momento di trovare le soluzioni. Se l'abbiamo incominciato finalmente a vedere la luce per i siti di interesse nazionale, è ad essere il momento di dare una risposta ai siti orfani, a quelli di cui non si trova più il colpevole. Ma non è perché non si trova il colpevole che possono rimanere così. Grazie. 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 Grazie.